L'incontro presso la Direzione Generale dell'ASPE di Cosenza e l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla non è servito a dissipare i dubbi emersi dall'atto aziendale che prevede un ridimensionamento del Centro Sclerosi Multipla Neurologia ASPE di Serraspiga e non sono servite neanche le rassicurazioni da parte del Direttore Generale su come le cose non cambieranno, sempre a causa del documento dello scorso 29 agosto che almeno nei contenuti formali afferma il contrario. Dopo questo incontro ad ogni modo l'Aism di Cosenza nonostante la promessa di una nuova delibera continuerà a vigilare sull'intera situazione ricordando tramite la Presidente dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla Anna Flaminia Batta che il Centro Sclerosi Multipla relativo all'Uo di Neurologia è l'unica struttura presente su tutto il territorio regionale ad effettuare la presa in carico globale offrendo prestazioni sanitarie di tipo diagnostico clinico e riabilitativo ed attualmente registra in carico circa 400 pazienti afferenti da tutta la provincia e da diverse aree della regione Calabria la quale conta una popolazione affetta di circa 1500 pazienti su 9 centri autorizzati in tutta la regione. Peraltro l'Unità Operativa di Neurologia svolge prestazioni sanitarie rivolte ad altre patologie a forte impatto sociale come l'Alzheimer, l'epilessia, il Parkinson, controlli clinici in pazienti affetti da miastenia, SLA e neuropatie genetiche ed acquisite oltre ad avere un laboratorio di neurofisiopatologia dove si eseguono tutte le prestazioni diagnostiche in ambito neurofisiologico. Insomma un centro che offre una serie di importanti servizi riconosciuti dalla stessa ASPE che oggi vorrebbe sopprimerlo nella riorganizzazione aziendale del 2012.